pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati solennità del corpus domini occasione bellissima per riscoprire l'importanza del sacramento dell'eucaristia e ridestare lo stupore per la presenza reale di gesù tra noi che si dona a noi vediamo in particolare due punti eucaristia come dono e come necessità le parole di gesù tratte dal capitolo 6 del vangelo secondo giovanni ci consegnano il significato profondo dell'eucaristia gesù dice chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno abbiamo la carne di gesù che in ebraico indica la sua persona e il suo sangue considerato sede della vita dunque la sua vita donata ecco il sacramento dell'eucaristia è gesù tra noi che si dona interamente a noi quando tu ami qualcuno desideri stare con la persona amata e donarti alla persona amata al nostro signore che ti ama immensamente non gli è bastato crearti non gli è bastato farsi piccolo farsi uomo per rivelarsi non gli è bastato dare la vita per te morire d'amore per te per salvarti ma continua a donarsi a te a farsi piccolo in questo sacramento d'amore pur di stare con te e in te e unirti a sé ha ragione madre teresa diceva quando osservi il crocifisso puoi comprendere quanto gesù ti abbia amato quando guardi la sacra ostia capisci quanto gesù ti ami in questo momento ora miei cari sarebbe già una grazia rinvigorire la nostra fede nella presenza di gesù tra noi ma oltre alla fede nella presenza reale di gesù padre cantalames ha sottolineato l'importanza che si accompagni un certo sentimento di presenza è una grazia che ti porta a percepire la presenza di gesù e quindi ad accostarti a lui con una certa riverenza anzi con una certa tenerezza è un sentimento delicato personale che solo a parlarne si rischia di sciuparlo san francesco d'assisi si inteneriva davanti a gesù sacramentato come a greccio si inteneriva davanti al bambino di betlemme lo vedeva così abbandonato nelle nostre mani così inerme così umile perciò nella sua lettera a tutto l'ordine egli scrive parole di fuoco sull'eucaristia quali tutta l'umanità trepidi l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare nella mano del sacerdote si rende presente cristo il figlio del dio vivo o umiltà sublime o sublimità umile che il signore dell'universo dio e figlio di dio così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane guardate fratelli l'umiltà di dio e aprite davanti a lui i vostri cuori sì cari fratelli e sorelle apriamo davvero davanti a lui i nostri cuori cuori spesso tiepidi indifferenti o banalmente abituati a un dono così grande ma non solo miei cari l'eucaristia è anche una necessità risulta particolarmente chiaro dalle parole stesse di gesù che anzitutto dice se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete in voi la vita vedete noi siamo affamati di vita la vita biologica c'è stata donata ma non ci appartiene inoltre ne percepiamo lo scorrere con il passare del tempo e ne desideriamo la pienezza aneliamo la salvezza cerchiamo pace cerchiamo qualcosa che colmi la nostra vita che la riempia di vita in una parola siamo affamati di dio e nulla fuori di lui può saziare veramente il nostro cuore ecco gesù mediante l'eucaristia fa sì che la nostra vita mortale sia alimentata dalla vita immortale di dio e dunque vivificata pacificata resa immortale quante persone in semplicità dicono io dopo che vengo a messa la domenica mi sento meglio è proprio così perché hai alimentato in te la presenza di dio hai accolto in te la sua vita e altro è vivere in balia delle tue deboli forze altro è vivere in comunione con lui con lui nel tuo cuore se non mangiamo di lui non abbiamo in noi la vita ecco perché è importante accostarsi alla comunione e fare comunione con gesù e non metterci nella condizione di non riceverla o non poterla ricevere pensate che con forza santa teresina di gesù bambino arrivò a dire che quando il diavolo ci ha allontanato dalla santa comunione ha raggiunto il suo scopo perché ci ha separati dalla vita di dio al positivo gesù continua dicendo chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno per questo i padri della chiesa chiamavano l'eucaristia il farmaco dell'immortalità ora come il corpo ha bisogno di alimentare la vita biologica nutrendosi così l'anima ha bisogno di alimentare a crescere e rinnovare la vita di grazia ricevuta nel battesimo mediante l'eucaristia e qui è bello pensare a quanto disse il santo curato d'ars dio ha disposto ogni sorta di cibo per il nostro corpo ma dovendone trovare uno per la nostra anima guardando sulla creazione non trovo nulla che fosse degno di lei allora si ripiegò su se stesso e decise di dare se stesso o anima mia quanto sei grande dal momento che solo dio può pagarti pensa caro fratello cara sorella quanto sei importante per dio che per amor tuo si fa tuo cibo tutto ciò però potrebbe sembrare qualcosa di statico basta che io ricevo la comunione e sono a posto in realtà dobbiamo fare un altro piccolo passo che ci è già suggerito dal termine stesso comunione subito dopo gesù dice chi mangia la mia carne beve il mio sangue rimane in me e io in lui c'è questo rimanere che rimanda ad una relazione stabile ad una comunione con lui e ancora dice come il padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il padre così anche colui che mangia me vivrà per me allora la vita di gesù che ci viene comunicata nel sacramento dell'eucaristia è una vita continuamente rivolta al padre e donata a noi cioè è un continuo dinamismo d'amore fare comunione con gesù significa lasciarsi tirar dentro questo dinamismo e volerlo vivere dunque non basta ricevere la comunione ma è importante vivere la comunione con lui donandosi agli altri come ha detto il papa nutrirci di quel pane di vita significa entrare in sintonia con il cuore di cristo assimilare le sue scelte i suoi pensieri i suoi comportamenti significa entrare in un dinamismo di amore oblativo e diventare persone di pace di perdono di riconciliazione pensate quando noi riceviamo il sacramento dell'eucaristia il nostro corpo assimila le poche sostanze dell'ostia santa ma a livello spirituale è il signore che ci assimila a sé perché possiamo diventare una cosa sola con lui eucaristia dopo eucaristia gesù ci unisce progressivamente a sé e tra noi infonde in noi i suoi sentimenti e la sua capacità di amare in una parola ci divinizza ci rende amore è chiaro tutto questo non avviene in automatico ma in forza della nostra fede pensate all'episodio dell'emorroissa tutti si accalcano attorno a lui ma una sola lo tocca veramente lo tocca con fede e smette di perdere sangue cioè smette di perdere vita e viene salvata cari fratelli e sorelle chiediamoci e noi come tocchiamo gesù abbiamo capito la grandezza della sua presenza tra noi e il bisogno che abbiamo di lui concludo nell'anno 304 l'imperatore diocleziano proibì ai cristiani sotto pena di morte di possedere le scritture di riunirsi la domenica per celebrare l'eucaristia e di costruire luoghi per le loro assemblee ad abitene una piccola località nell'attuale tunisia 49 cristiani furono sorpresi una domenica mentre riuniti in casa di ottavio felice celebravano l'eucaristia sfidando così i divieti imperiali arrestati vennero condotti a cartagine per essere interrogati dal proconsole anulino significativa la risposta che un certo emerito diede al proconsole che gli chiedeva per quale motivo avessero trasgredito l'ordine severo dell'imperatore egli rispose sine dominico non possumus cioè senza riunirci in assemblea la domenica per celebrare l'eucaristia non possiamo vivere cari fratelli e sorelle che il signore ci doni la grazia di capirlo riscoprirlo e sentirlo noi senza domenica senza eucaristia non possiamo vivere che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti